Parlando di Sebastiano Esposito, l'abbiamo detto, il rinnovo di contratto è uno dei temi che l'Inter dovrà trattare nel futuro più prossimo perché è un calciatore, un vero e proprio talento della squadra e quindi non può essere ignorato il suo futuro e l'Inter non intende assolutamente svenderlo o utilizzarlo come contropartita o come plus valenza. Questo è un punto importante della situazione e dobbiamo tenerne conto perché si sono spese tante parole in queste settimane in merito e molto spesso direi anche un po' indebitamente perché l'Inter ha comunque sempre ammesso di voler puntare su Sebastiano Esposito. Lo stesso Conte spesso gli ha dato spazio, ha trovato addirittura un gol in Serie A, ha fatto un'ottima prestazione contro il Borussia Dortmund quando è entrato in Champions League, quindi da questo punto di vista nei fatti l'Inter ha sempre dimostrato di volerci puntare. La situazione qual è? La scadenza dell'attuale contratto di Sebastiano Esposito è datata 2022, questo perché fino a due giorni fa Esposito non era maggiorenne, ha compiuto i 18 anni proprio l'altro ieri e quindi per le regole presenti in Italia non poteva ancora firmare un contratto più lungo di un triennale. Quindi l'ultimo rinnovo che l'Inter ha potuto garantirgli è stato appunto un rinnovo triennale. Ora che ha compiuto i 18 anni e che quindi può firmare contratti fino ai canonici 5 anni, l'Inter sta valutando appunto per proseguire la scadenza del suo attuale contratto al 2025 e quindi fargli firmare sostanzialmente un rinnovo che diventerebbe di fatto quinquennale. La prima offerta che l'Inter ha avanzato al giocatore è stata da 450 mila euro a stagione, salvo poi essere alzata a 700 mila più bonus. Questa è l'ultima offerta che diciamo agli atti c'è da parte dell'Inter per far rinnovare il contratto a Esposito. La richiesta dell'entourage del ragazzo è stata di circa un milione di euro, più che altro perché tre anni fa Andrea Pinamonti, vi ricorderete probabilmente, ha rinnovato con l'Inter la stessa cifra e quindi Esposito ritiene il suo percorso già sufficientemente maturo per poter richiedere una cifra di questo tipo. Quindi la volontà del ragazzo e del suo entourage sarebbe quella di strappare un milione di euro all'anno di stipendio. Dicevo all'inizio, una cosa deve essere molto chiara, non ci sono litigi, discussioni e problemi da questo punto di vista. Esposito è un calciatore su cui l'Inter vuole puntare, Antonio Conte l'ha ripetuto spesso, è lui il primo a crederci e alle sue spalle c'è anche tutta la società. Tutti sono compatti e sono convinti che Esposito potrà essere un calciatore fondamentale per l'Inter del futuro e allo stesso tempo e di riflesso anche Esposito ha sempre detto di voler avere l'Inter come prima opzione per il suo futuro e di essere legatissimo al club. Quindi la prima scelta da entrambe le parti è quella del rinnovo del contratto. Questo naturalmente non chiude le porte definitivamente ad altri tipi di scenari, ma questo secondo me era qualcosa di fondamentale da dire, perché si sono spese tante parole, è stato detto che ci sono stati litigi, ci sono stati problemi di natura emotiva, potremmo dire da questo punto di vista. Sembrava che appunto Esposito era stato descritto ad un certo punto già ora come un calciatore che dava più importanza ai soldi rispetto al progetto. Ecco, questo sinceramente mi sento di escluderlo perché è un ragazzo ancora molto giovane, ha le sue richieste, come peraltro è giusto che sia, ma non c'è assolutamente alcun tipo di problema, almeno in questo momento, fra lui e l'Inter. Si punta, come dicevo, a un rinnovo fino al 2025, ma la cosa fondamentale è che l'Inter non vuole assolutamente perdere il controllo del ragazzo, anche in caso di cessione. L'Inter vorrebbe cederlo in prestito dopo aver firmato il rinnovo di contratto, ma se anche dovessero scegliere per una cessione al titolo definitivo, sicuramente l'Inter non perderà il totale controllo, inserendo quindi una clausola di recompra nel suo contratto, perché comunque lo vede come l'attaccante del futuro e giustamente non vuole assolutamente perderlo dalle mani. Fondamentale è anche il fatto che, come dicevo prima, l'Inter vorrebbe cederlo in prestito perché, rispetto a quanto fatto quest'anno, la società ritiene più sicuro, e su questo apro e qui do parentesi, sono assolutamente d'accordo, avere una batteria formata da quattro attaccanti, tutti e quattro pronti, fatti e finiti. Sul livello di Lautaro, Lukaku e Sanchez, la quarta punta dell'anno prossimo Marotta ha giudicato essere necessario per l'Inter avere non appunto il giovane esposito, o comunque un giovane prospetto proveniente dalla primavera, ma un quarto attaccante di livello. I nomi sono i soliti, li abbiamo sentiti molto spesso, il profilo che potrebbe anche tornare in auge potrebbe essere quello, ad esempio, di Olivier Giroud, comunque nomi di questo tipo. La volontà di Conte di Marotta è quella di mettere a disposizione appunto dell'Inter un parco attaccanti veramente completo. E quindi la volontà sarebbe quella di far rinnovare il contratto a Sebastiano Esposito, possibilmente fino al 2025, possibilmente a delle cifre contenute, diciamo così, e poi mandarlo in prestito in qualche club o di Serie A o di Serie B. Questo era quindi, ragazzi, il punto della situazione sulla questione Sebastiano Esposito. Vi chiedo appunto di commentare dicendomi se anche voi siete d'accordo insomma con la scelta dell'Inter di puntare su Sebastiano Esposito, se vi augurate che nonostante queste piccole scaramucce dal punto di vista economico il futuro di Esposito sia ancora nell'Inter. Io personalmente mi sento di dire sì, perché ci ha entusiasmato, ci ha fatto brillare gli occhi questo ragazzo di sole 18 anni che sembra già un predestinato, quindi non vorrei personalmente vederlo da altre parti e poi magari rimpiangere la questione come ha fatto con Zaniolo. Quindi, ragazzi, iscrivetevi al canale YouTube se ancora non l'avete fatto e iscrivetevi anche e seguiteci su tutte le nostre piattaforme di podcasting. Grazie. Grazie. Grazie.